Ciao ragazzi, sono Ricudo, buongiorno a tutti. Lo so che ieri il video non è uscito, ero stanco. Sono proprio inculato YouTube ieri, quindi quattro ore senza YouTube. Ieri però mi fu la per la testa un'idea per una nuova serie di news. Ma non news riguardo al canale, news di quello che succede nel mondo. Noi ci attenziamo più nei particolari. Allora, l'ho concepita ieri. Per prima cosa ho pensato di portare una serie chiamata Ricudo News che tratterà di quello che succede nel mondo. Tipo ad esempio, che so, di quello che sta succedendo adesso tra Corea del Nord e Trump, tanto per dirvi. Oppure notizie riguardo nuovi anime, nuovi manga, nuovi film. In cui che farò? Andiamo a leggere insieme la news. Io poi esporro i miei pensieri personali da quello che ho letto. Porterò ogni singolo fatto di news, però tranne uno, la cronaca. Per un preciso motivo. Perché dalla cronaca diciamo che è angoscioso. Poi ci sono molti termini forti, tra cui tipo è morto, è stato ucciso, ammazzato, stritolato e quant'altro. E poi, oltre tutto, non sia mai che YouTube mi segnala questo fatto, perché ci sono parole forti. Non dico che sono parolacce. Però leggere questi fatti di cronaca insieme, secondo me, sarebbe brutto. Oltretutto perché io, sì, vabbè, ho un pubblico di adulti, comunque, mi seguo. Quindi di questo, meno mai, potremmo pure parlare, ma sono io che non lo voglio portare. Parleremo di tutto, tranne di cronaca. Parleremo di guerra, anime, manga, spazio, astronomia. Che so, nuove scoperte. Tanto per intenderci. Oggi la voglio solo annunciare. Questo non è il primo episodio, è solamente un annuncio. L'annuncio della nuova serie che si chiama la Rikudo News. Il primo episodio arriverà sabato. Penso verso la mattina o il pomeriggio. Poi non lo so. Poi il messaglio lari che mi trovo meglio, tanto lo porto. E noi ci vediamo al prossimo video.